Ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto e ringrazio soprattutto per questo invito l'ISAG. Invito tanto più gradito perché sia la sottoscritta che la dottoressa Ruggiu, Valeria Ruggiu, che sta alla mia destra, veniamo dalla Sardegna, un'isola così strategicamente importante nel cuore del centro del Mediterraneo. Io sono uno storico e come tale chiaramente io parlerò di storia. Il ministro Conciatore ha parlato di rivolte, parlando della Libia, ha parlato di processo rallentato, di costituzione che non è stata ancora scritta, frammentazione dei poteri, tribù influenti, spinte federaliste in cirenaica e cose di questo genere. Bene, che cosa farò io? Cercherò di fare perlomeno. Cercherò di fare delle riflessioni sulla storia della Libia di lungo periodo. Quindi non vi spaventate se magari incomincerò col dire che la Libia era una provincia dell'impero ottomano, non chiaramente sotto il nome della Libia, la provincia di Tripoli e la provincia di Bengasi. Chiaramente la provincia di Tripoli non si può abbassare questa roba? Sì, forse sì. Grazie. A me stessa. La provincia della Libia e la provincia della Tripolitania e che appartenevano all'impero ottomano. Ci fu un momento però all'interno di tutto questo lunghissimo periodo, fino al 1911, ci fu un momento, nel 1711, in cui queste province caddero sotto una dinastia, una dinastia locale, che era la dinastia dei Caramalli. Bene, dal 1711 al 1835 questi territori rimasero sotto la dinastia dei Caramalli. Qual è l'importanza di questa, perché lo citate, qual è l'importanza di questa dinastia? L'importanza è che l'autorità della famiglia dei Caramalli fu totale sia sulla Tripolitania che sulla Cirenaica. E se però dare al territorio sia della Tripolitania che della Cirenaica un inizio di unità, con chiaramente la preminenza della Tripolitania come sede del potere. Ricordiamo a questo proposito che Tripoli era una città decisamente più grande rispetto a quella che poteva essere Bengasi. L'impero ottomano, che ad un certo punto si vede sottrarre praticamente tutte le sue province, ad un certo punto, quando l'Italia, già con una politica diplomatica precedente, arrivò ad una guerra italo-ottomana nel 1911-1912, l'impero ottomano fa di tutto per tenersi questa provincia. Vediamo che questa è la cosa importante, secondo me, come si inserisce l'Italia, come si inserisce il colonialismo italiano in questa situazione che era tipica dell'impero ottomano. Perché nel momento in cui l'impero ottomano toglie ai Caramalli, nel 1835, il potere che avevano sulla Tripolitania e sulla Cirenaica, la governarono, più o meno come prima, fino al 1911. Nel 1911, l'anno dell'occupazione italiana, e questo è un anno importante perché con un decreto l'amministrazione italiana pone sotto la sua sovranità questi territori che da quel momento, proprio da quel momento, cominciarono a chiamarsi Libia. Il Fezzan fu, sapete che la Tripolitania, che la Libia oggi è formata da tre territori, la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan. Il Fezzan, da quel momento, nel 1911, che sta nell'estremo meridione, fu amministrato insieme alla Tripolitania come unico territorio. La cosa importante di questo periodo è che ci fu una resistenza al colonismo italiano. Una resistenza, è molto importante questo, perché la resistenza fu, si articolò in tre livelli, una resistenza locale, ottomana e addirittura panislamica. Possiamo parlare di resistenza panislamica. Locale perché la popolazione araba collaborò con le truppe ottomane in Tripolitania e Cirenaica, anche se il controllo della responsabilità in Cirenaica era stata assunta dalla confraternità senusia. Quindi già in questo momento vediamo, siamo nel 1911, che la confraternità, che la senusia, incomincia a far sentire, incomincia, fa sentire il suo peso politico, il suo peso economico, perché no, e il suo peso culturale e tradizionale. Nella resistenza, nel secondo caso, ottomana, la leadership ottomana, che organizzò le file dei combattenti, attenuò invece i contrasti fra le tribù. E operò come fattore unificante, anche se le sfere di influenza delle eliti tradizionali rimasero sempre entro i confini tribali. Non dimentichiamola, ce l'ha mai per la Libia questa parola, tribali. E poi, infine, la resistenza panislamica, perché la Libia aveva ricevuto il sostegno da parte di quasi tutti i paesi arabi e anche da parte di paesi non arabi, ma musulmani, quali l'India, l'Indonesia, l'Afghanistan. Dopo il Trattato di Lausanna, con il quale finalmente l'Italia riesce ad avere, o l'amministrazione italiana, coloniale italiana, riesce a trovare un accordo con l'impero ottomano, scoppia la prima guerra mondiale e lo scoppio della guerra mondiale invece da un nuovo impulso alla resistenza. E nell'ultima fase della guerra la politica coloniale cambiò direzione e si avviò verso ad una collaborazione con la popolazione. Fu questo l'appice di questo tipo di politica nel 1919, quando ci furono la promulgazione degli stati o delle leggi fondamentali. Può essere visto questo come un momento di unità, di collaborazione, di collaborazione di sicuro, di unità fra questi territori, punto di domanda. La realtà è che queste leggi fondamentali o questi statuti non furono mai veramente messi in pratica in Tripolitania. Addirittura in Cirenaica si adottò una politica di compromesso con la Senusia. Con la Senusia si arrivò alla firma di accordi come quelli di Acromo di regime in cui l'Italia riconosceva nella regione il potere politico della Senusia che manteneva la sua sovranità all'interno mentre gli italiani continuavano a controllare la zona costiera. Ed ecco una seconda volta che parliamo di Senusia. Senusia che non è trattata allo stesso modo e non è sullo stesso piano della Tripolitania e tantomeno del Fezzano. Il Fezzano addirittura come ho già detto e lo ripeto veniva amministrato insieme alla Tripolitania. È molto importante questo perché praticamente la Cirenaica si sviluppa in una maniera diversa rispetto alla Tripolitania. l'ascesa del fascismo segnò l'abondono della politica conciliatoria e l'occupazione militare dei territori divenne una priorità all'interno di questi territori. Sappiamo qual è stata sempre all'interno della Cirenaica qual è stata la resistenza Omar al-Mukhtar eccetera. Questa resistenza che terminò proprio con la in piccagione di Omar al-Mukhtar forse uno dei pochissimi casi io mi occupo sono in realtà un docente di storia e istituzione dell'Africa subsahariana e forse questo è uno dei pochissimi casi in cui si vede punito un resistente come Orba al-Mukhtar con la in piccagione in una pubblica piazza. Le cose cambiano con Italo Balbo che diventa governatore della Tripolitania e ottiene dall'amministrazione del governo centrale che la Tripolitania e la Cirenaica fossero unificate in un'unica colonia che fu chiamata Libia però nonostante questa unificazione che rimaneva sempre sulla carta il regionalismo continuò sempre a contraddistinguere la politica coloniale tanto che la Libia non era considerata un'unità territoriale anche se non ho molto tempo vorrei però in questo momento citare una cosa che è molto importante e che noi a Cagliari nel nostro dottorato è stata fatta in questo argomento è stata fatta un'attesi molto di dottorato veramente molto originale qual è stato in questa politica di collaborazione con le popolazioni libiche possiamo chiamarle così adesso il ruolo della stampa della stampa araba voluto da Benito Mussolini perché voluto da Benito Mussolini Benito Mussolini in questo momento il protettore dell'Islam perché il protettore dell'Islam perché sta per invadere l'Etiopia sta per invadere l'Etiopia e chiaramente deve andare contro il governo di Aile Selassie quindi contro il governo degli Amaraki cristiano e quindi ha necessità proprio necessità vitale necessità politica in questo momento di agire in una maniera completamente diversa nei confronti della religione musulmana possiamo però tornando diciamo fatta questa brevissima parentesi se qualcuno fosse interessato a questo argomento sulla stampa noi siamo a vostra disposizione come dipartimento l'assenza quindi di questa politica indigena definita la forte repressione un'istruzione poco sviluppata non favorì movimenti politici o partiti politici che avrebbero poi potuto condurre all'autogoverno accade una cosa che è fondamentale nella storia della Libia l'Italia perde la guerra il 1943 segna la data dell'inizio dell'amministrazione militare britannica anzi franco-britannica perché la Gran Bretagna amministrerà la Tripolitania e la Cirenaica mentre la Francia amministrerà invece il Fezzan e mentre in Tripolitania si formarono partiti che naturalmente erano in disaccordo scusate naturalmente la metto tra virgolette erano in disaccordo fra di loro sul futuro del paese in Cirenaica invece non si formarono partiti e l'unica forza politica era rappresentata da chi? da un personaggio che era Idris Senussi e quindi il capo della confraternita voglio dire due parole sulla confraternita Senussia che non era una confraternita normale era una confraternita che veniva era stata organizzata come uno stato proprio che aveva la sua autorità arrivava fino all'inizio dell'Africa l'Africa subsahariana e questa sua autorità la Cirenaica poi era molto legata all'Egitto confinante e in Egitto chi c'era? In Egitto c'era la Gran Bretagna quindi a questo punto dal 43 al 49 quando la comunità internazionale esattamente l'ONU decise che la Libia sarebbe diventata una nazione indipendente uno stato indipendente sotto la sovranità del del sovrano del re Idris quanti anni passano dal 1943 al 51 passano sette anni sette anni di amministrazione militare britannica in cui l'italiano non si insegna più ma si nelle scuole viene insegnata la lingua inglese o viene insegnata la lingua francese e questo è molto importante perché l'italiano così come è stato dimostrato in Somalia può essere un elemento di unità perché le colonie italiane sono le uniche colonie che sono rimaste orfane praticamente di una lingua perché non hanno avuto decolonizzazione come tutti gli altri colonie mentre la Libia non avendo avuto decolonizzazione non avevano un punto di riferimento la stessa Libia perché stiamo parlando di Libia fu costruita costruita dall'esterno costruita dalla comunità internazionale che vedeva di malocchio che non vedeva di buon occhio in quel momento un intervento richiesto da parte dell'Unione Sovietica che voleva interrare il Mediterraneo figuriamoci se Stati Uniti e Gran Bretagna avrebbero potuto permettere una tale politica all'Unione Sovietica bene quindi arriviamo alla costruzione di questo stato libico che è il 1951 esattamente il primo gennaio del 1952 la Libia diventa Regno Unito di Libia con un governo monarchico formato dalla Tripolitania dalla Cirenaica e dalle Afezani quindi dalle tre regioni dove la Cirenaica aveva chiaramente il predominio quindi la confraternita Mosulini la confraternita Senussia e quindi Idris il sovrano gli fu dato un governo federale quindi chiaramente questo anche questo governo federale non andava certamente verso l'unitarietà del paese anzi andava verso diciamo un'amministrazione che poteva essere sì autonoma per le tre province però era diversa quando è che le cose cambiarono all'interno di questo stato quanto tempo ho ancora scusate cinque cinque minuti finisco e quando è che le cose cambiarono quando si incominciarono le prospezioni per il petrolio nel 59 e quindi per motivi economici per motivi politici fortemente economici soprattutto nel 63 il regno unito di Libia da regno federale diventa regno invece la federazione sparisce scompare voglio spero che mi rimangano due tre minuti per parlare della di una cosa molto importante di una cosa molto importante che riguarda il colpo di stato del primo settembre del 1969 di Gheddafi Gheddafi era un uomo stato definito in tutti i modi però conosceva dal mio punto di vista le popolazioni che abitavano in quel territorio sapeva come stava la situazione e conosceva il tutto aveva capito aveva visto aveva notato che la cirenaica con la sua religione dell'islam non era riuscita a fare della religione musulmana un collante non c'era non era riuscita neppure con la lingua la lingua araba bene Gheddafi trova il come dire il collante vincente il collante vincente era il colonialismo italiano la lotta contro il colonialismo italiano noi sappiamo che cosa ha fatto Gheddafi nel 70 contro contro gli italiani lui costruisce lui Gheddafi costruisce l'identità nazionale in questo modo fa un uso pubblico fa un uso pubblico della storia gli eventi in corso dimostrano quanto sia fragile l'unità nazionale ma voglio ricordarvi che quando Gheddafi e sono ricordatamente l'anno forse nel 10 venne in Italia invitato da Berlusconi aveva quella bella pattacca dove c'era Omar al-Mukhtar quindi Omar al-Mukhtar che rappresentava la rivolta la resistenza al colonismo italiano ancora era lì a mostrare a tutti che quello era la rappresentanza dell'unità nazionale vorrei ricordare un fatto personale nel 2010 io ho organizzato un viaggio con i dottorandi di ricerca il 2010 ottobre con laureandi a Tripoli siamo stati dell'istituto italiano di cultura dove abbiamo organizzato un seminario e dove mi hanno chiesto un'intervista l'intervista chiaramente avevo un interprete perché la giornalista era un'araba e mi chiese la giornalista mi fece una domanda e mi chiese se nei nostri corsi di studio a Cagliari insegnavamo il colonialismo la storia della Libia e il colonialismo e io risposi di sì perché manca farla apposta in quei giorni prima di arrivare prima di partire per Tripoli avevamo visto il film Il leone del deserto il leone del deserto che voi sapete qual è stata tutta la storia del leone del deserto e quindi la giornalista fu entusiasta il giorno dopo uscì un articolo sul giornale dove c'era la mia fotografia a forma di medaglietta diciamo così l'articolo tutto scritto in arabo ma noi avevamo persone che ce lo traducevano è la fotografia di Omar al-Muqtar come a dire che questo accordo che noi volevamo iniziare questa collaborazione che noi volevamo iniziare noi sardi che venivamo dalla Sardena all'università di Cagliari era basata su un territorio un terreno era basato su un territorio su un terreno molto forte che era quello della resistenza libica al colonialismo Omar al-Muqtar bella fotografia grazie scusate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti